L'amministrazione comunale a Giarre, nella seconda metà del Novecento, è stato il tema dell'ultimo incontro culturale della Società Gerrese di Storia, Patria e Cultura. Un auditorio attento ha seguito la conferenza dell'Onorevole Salvo Andò, che ha dettagliatamente analizzato i cicli del governo cittadino. Ad introdurre il convegno è stato il presidente della Società Gerrese, Nicolò Mineo, a seguire il sindaco Angelo Danna, in qualità di primo pilastro dell'attuale amministrazione comunale, ha salutato i presenti e introdotto l'interessante e vasto argomento. Questa sera è un tema estremamente interessante, quello delle amministrazioni che dal dopoguerra si sono succedute in città nella seconda parte del Novecento, quindi al secolo scorso. Il professore Andò, l'Onorevole Andò, che anche per vicende personali, avendo avuto il padre, che è uno dei nobili sindaci che si sono succeduti nel dopoguerra, sta proprio ripercorrendo tutte quelle che sono state le varie amministrazioni, i vari periodi storici, le condizioni. Oggi chiaramente assistiamo a un'evoluzione del costume, dei mezzi, delle opportunità, anche delle risorse economiche disponibili, ma ogni periodo, ogni ciclo storico ha ovviamente quelle che sono le opportunità, come le tante difficoltà da affrontare. Sicuramente, insomma, molte amministrazioni del passato possono essere dei validi esempi ancora oggi su cui impostare il lavoro a favore della città. Già ministro della Difesa nel primo governo amato dal 1992 al 1993, Salvo Andò fu più volte consigliere comunale a Giarre negli anni Sessanta e Settanta. Nel corso dell'incontro ha fatto una ricostruzione storica di 40 anni di vita politica giarrese, inserendo anche racconti di aneddoti personali di vita politica vissuta.